Bentornati sul canale giornalismo del cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Clé di Cadillou ha avuto una grande avventura ad amici, dove il suo talento ha fatto emozionare molti Vediamolo oggi. Sono passati ormai 21 anni da quando Clé di Cadillou ha fatto il suo ingresso, in uno dei talent show più famosi d'Italia Stiamo parlando proprio di Amici di Maria De Filippi, format che l'ha consacrato come ballerino e che gli ha dato la possibilità di lavorare molto in questo campo Ma cosa fa oggi? Clé di Cadillou, originario di Tirana, muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2001 proprio nel programma di Maria De Filippi Un format con cui ha lavorato fino al 2012. Per diventare il talentuoso ballerino che è oggi, Clé di Cadillou ha seguito una formazione presso l'Accademia Nazionale, scuola in cui si è diplomato nel 1992 In seguito, ha iniziato subito a mettere a frutto ciò che aveva imparato all'interno del corpo di ballo del teatro dell'Opera di Tirana Nel 1996 si trasferisce in Italia, luogo in cui riesce a ottenere non poche opportunità per far vedere a tutti di che pasta è fatto Se Clé di Cadillou è diventato un nome molto importante nel mondo della danza, il merito di sicuro va a lei, Maria De Filippi Una donna che, non solo gli ha dato la possibilità di partecipare ad Amici, ma che gli ha permesso di restare per altri dieci anni per lavorare nel corpo di ballo del programma Dopo la sua avventura ad Amici, ecco come oggi Clé di Cadillou insieme a lui c'era anche a Beta Torromani, donna che ha seguito lo stesso percorso di Clé di, che da Tirana si è trasferita in Italia per partecipare poi ad Amici e riuscire a classificarsi al secondo posto Dopo aver lavorato per molti anni fianco a fianco con Clé di, nelle 2012 a Beta abbandona il programma Il motivo? Sembra che, la causa di tutto ciò, sia stata proprio un'accesa discussione avuta tra lei e Maria De Filippi Pare infatti che alla conduttrice di Amici non andasse a genio il comportamento della ragazza verso gli allievi della scuola, un atteggiamento eccessivamente duro Cosa sappiamo invece di Clé di Cadillou? Cosa fa oggi? Era il 2004 l'anno in cui ha creato una scuola di danza tutta sua, attività che ancora oggi lo coinvolge al 100% Non molto tempo fa, lo abbiamo visto persino al lavoro sullo spettacolo che omaggiava Carla Fracci È stata questa un'occasione per lavorare anche insieme a Giulia Stabile, l'ultima vincitrice di Amici Oggi Clé di divide la sua vita con Charlotte Lazzari. Una donna con cui è sposata dal 2018, e da cui ha avuto anche due figli, Lea e Gabriel Oggi vivono una vita felice e completa insieme.Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao